Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro posso essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi andremo a fare un identikit del vostro prossimo amore. Si avvicina a San Valentino e quindi mi sembrava carino fare una lettura sulla vostra prossima fiamma, su come potrebbe essere la prossima persona di cui vi innamorerete. Questa lettura è una delle due letture in promozione per il mese di febbraio. Se volete sapere qual è l'altra lettura in promozione vi consiglio di ascoltare l'oroscopo sull'amore e gli affetti di febbraio. Lì dico qual è l'altra lettura in promozione. Allora abbiamo due scelte, abbiamo il mazzo azzurro e il mazzo giallo, quindi scelta 1 e scelta 2. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo azzurro. Andiamo subito a vedere come sarà il prossimo incontro, la prossima relazione. Io come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, quindi è facile che non risuoni tutto, soprattutto se avete già qualcuno in mente. Quindi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, può essere utile magari ascoltare l'altra lettura. Andiamo a vedere per le persone che hanno scelto il mazzo blu come sarà la prossima persona di interesse. Abbiamo il diavolo, la regina di pentacoli. Andiamo a vedere che altre carte ci danno. Il 3 di coppe e regina di bastoni. Wow, ragazzi! Allora, devo dire che sarà una persona molto affascinante, con tanto carisma, è una persona con una mente brillante, è una persona anche che ha raggiunto un certo stato sociale, un certo tipo di notorietà, perlomeno all'interno del suo gruppo di persone. Sento che è una persona comunque generosa. Diciamo che può essere che abbia una sorta di tendenza a controllare, ma non in modo negativo, è più in modo accuditivo, o come questa sensazione. Ripeto, sento che ha una mente molto brillante, molto attiva, è come se fosse una persona con una grande capacità di risoluzione dei problemi. È una persona alla quale molti fanno riferimento, ed è in grado di gestire, a proprio livello materiale, quello che è la quotidianità, in un modo molto abile, devo dire. Anche a livello di parole, è una persona con la quale vi trovate bene a parlare, vi troverete bene a parlare. È una persona affascinante da un punto di vista, diciamo, dell'aspetto fisico, può essere una persona che ci tiene al proprio aspetto. Non direi in maniera eccessiva, però il giusto, ecco. Magari con un certo tipo di abbigliamento, se fosse una donna con un certo tipo di appariscenza, mi vien da dire. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Ok, allora abbiamo un 7 di bastoni, un 3 di bastoni, la regina di pentacoli, scusate, di spade, al contrario. 9 di spade e 4 di bastoni, ragazzi. Allora, sento che è una persona che ha alti ideali, è una persona che ha un certo tipo di progetti, di obiettivi, di ambizioni, di aspirazioni, mi avrebbe da dire. È una persona espansiva, sento che comunque, ripeto, è una persona con la quale si può instaurare un buon rapporto di amicizia, prima che una relazione di tipo romantico, e anche questa flessibilità, questa brillantezza a livello mentale permette che il dialogo sia fluido, che ci sia questa sorta di accoglienza anche da parte dell'altra persona. Potrebbe essere che sia un po' troppo soggetto ai pettegolezzi, questo ve lo dico, come se gli piacesse un po' o le piacesse un po' spettegolare. Vediamo che altro riesco a dirvi. Potrebbe essere una persona con delle proprietà, quindi intendo proprio con immobili, o comunque con una certa ricchezza patrimoniale, ma come la sensazione che abbia già una sua casa, che viva già per conto suo. Non so se la casa è di proprietà, ma potrebbe essere, potrebbe anche essere, insomma. essendo una persona così tanto mentale, ho come la sensazione che potrebbe essere una persona che tende a preoccuparsi un pochettino troppo per quello che dicono gli altri, ma perché giustamente noi funzioniamo a specchio, ragazzi. Quindi quando c'è qualche cosa che ci dà fastidio negli altri, o che comunque ci fa venire tipo degli allarmi, diciamo così, è perché quella stessa cosa dentro di noi non l'abbiamo lavorata. In effetti, se c'è tutta questa preoccupazione per quello che gli altri dicono, è perché c'è una tendenza di questa persona a spettegolare. Quindi tecnicamente uno si aspetta che gli altri si comportino come mi comporto io, no? E quindi se io ho la tendenza a spettegolare, si suppone che anche gli altri abbiano questo tipo di tendenza, ed è per quello che c'è un po' questa preoccupazione all'immagine, proprio mi viene da dire. È una persona che ci tiene all'immagine, sia fisica che da un punto di vista di posizione sociale. Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Vi dico che è una persona che comunque, nonostante possa essere così tanto mentale, è anche una persona abbastanza equilibrata da saper quando essere flessibile. È un po' come se fosse determinata, ma comunque malleabile. È un po' una cosa di questo genere, come se il carattere fosse un carattere vincente, comunque lo sento, però appunto non rigido. Ecco. Abbiamo poi un otto di spade, un asso di spade, il re di coppe e il dieci di spade. Allora ragazzi, vi dico, questa persona ha una mente brillante, come vi dicevo prima, è tanta mente e ho però come la sensazione che faccia un po' fatica a comunicare le proprie emozioni, come se c'è qualche cosa legato all'espressione emotiva che un po' blocca questa persona. Potrebbe anche essere che ci siano dei problemi a livello di comunicazione con questa persona, ok? Però ho più come la sensazione che sia questa persona che non riesce ad esprimere, ad esprimere, perché poi è brava a parlare, è molto brava, anzi, io credo che la chiacchiera al parlare possa anche far parte di quello che è il lavoro di questa persona, potrebbe essere come un consulente finanziario, piuttosto che un venditore o una venditrice, un organizzatore o un'organizzatrice di eventi, di feste. Può anche essere qualcuno che aiuta a creare dei programmi, delle strutture, sì, tipo consulenti o cose di questo genere. Può anche essere un maestro di canto, ipotesi. O sì, uno speaker, qualcuno che parla. Perché ho come la sensazione che la parola sia molto importante nel suo lavoro, come anche questo essere molto brillante a livello mentale, però ci sia una sorta poi di carenza quando è ora di comunicare le proprie emozioni, ok? Allora, per quello che riguarda l'età di questa persona, adesso dipende da che età abbiate voi, ma può essere leggermente più grande di voi o addirittura coetaneo, o coetaneo, ok? Però più o meno, diciamo che la fascia di età potrebbe essere quella. Ecco, potrebbe anche essere, come vi dicevo, una persona che in qualche modo, essendo comunque gioviale, essendo di compagnia, essendo brava a parlare e potrebbe, come vi dicevo prima, essere un organizzatore, un'organizzatrice di eventi, o come la sensazione che potrebbe proprio essere un suo mestiere, un suo, una sua dote, organizzare feste, organizzare cene, organizzare eventi, magari ripeto, proprio il tipo di lavoro che fa, può anche essere che raccolga, faccia tipo feste per raccogliere fondi, in beneficenza intendo, per beneficenza. E quindi, anche un po' il posto dove lo potrete incontrare, o la potrete incontrare, scusate, anche il posto dove vi potrete incontrare, sento che ha a che vedere con qualche tipo di festa, qualche tipo di, tipo festa di primavera, o, adesso febbraio c'è il carnevale, ragazzi, quindi per qualcuno si potrebbe trattare proprio di un incontro durante le feste di carnevale. mi parlano di ristorazione, potrebbe essere qualcuno legato alla ristorazione, e in effetti sarebbe qualcuno che vende comunque un prodotto, se poi magari è anche un appassionato di certi tipi di cibi potrebbe... mi parlano di quelle degustazioni un po' particolari che si fanno di tanto in tanto nei ristoranti. Vediamo che altro vi posso dire con gli angeli del cuore. Io non credo neanche che... che trascorrerà molto tempo, da quando vedrete la lettura, a quando questo si manifesterà. e vi dirò che potrebbe essere anche moro... o mora... anche con i capelli lunghi... vi dico, l'aspetto fisico è comunque ben curato, anche appariscenti in alcuni casi... sei una donna anche parecchio ingioiellata, diciamo... però piacevole, di compagnia, simpatico, una persona che ride con gli altri. Anche se, ripeto, forse i pettegolezzi sono un po' il tallone di Achille. Andiamo a vedere con gli angeli del cuore. Separazione, si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner. Interessante! Allora, se siete in una relazione, ipotesi, o se avete già qualcuno in testa, può essere che, a causa di questo periodo di separazione, incontrerete questa persona. o come l'idea che molte persone si siano fatte una prospettiva con qualcuno, ma che in realtà qui si vada verso altri fronti, diciamo così. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Andiamo a vedere cosa vi dicono. Trasmutazione. Ecco, è un po' come il cambiare da una situazione all'altra. Trovarsi in una situazione e poi, diciamo magicamente, essere catapultati in un'altra. La trasmutazione in realtà è una trasformazione, un cambiamento interno. Va bene, cari amici del Mazzu Blu, fatemi sapere poi questa persona, se la incontrerete in questi posti di festa, insomma, se il carnevale avrà il suo ruolo in tutto questo. Io spero comunque, insomma, di avervi dato un po' di ispirazione con questa lettura. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao! E benvenuti alle persone che hanno scelto il Mazzu Giallo. Andiamo a vedere anche per voi come sarà il prossimo amore. Vi ricordo, come sempre, che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Soprattutto se avete già in mente una persona e la lettura non corrisponde, potete anche guardare l'altra lettura, ok? Bene, andiamo a vedere. Abbiamo un 2 di spade, un 5 di coppe, un 10 di spade, caspita ragazzi, che personcina che si sta per avvicinare, devo dire. e la carta della morte. Guardate, il 10 di spade è l'arcano minore della morte, quindi ho come la sensazione, ho come l'idea che questa persona sia in una fase di trasformazione, dove probabilmente ha avuto un lutto, sta uscendo da quello che è un lutto. c'è un profondo cambio all'interno di questa persona. Il 2 di spade mi dice che o deve affrontare una scelta, o ha appena affrontato una scelta, però ho come la sensazione che questa persona sia in una fase, diciamo, un po' di down energetico. E' come se, ripeto perché, ho un 10 di spade, ho un 5 di coppe, è come se avessi avuto veramente un lutto emotivo, sta uscendo probabilmente da una relazione. E comunque con la carta della morte c'è una sorta di rigenerazione. avanti, vediamo che cos'altro dicono. Perché con il 10 di spade e la carta della morte devo dirvi che questa persona è in un forte processo di trasmutazione del dolore. Abbiamo poi un 2 di pentacoli, diamanti, la carta del sole e il 9 di pentacoli. Allora ragazzi, devo dire che la persona, avendo questo 2 di pentacoli, è una persona che ha la possibilità o comunque cerca di mantenere in piedi probabilmente due lavori allo stesso tempo. E' una persona che ha tante capacità, tante doti di fare più cose allo stesso tempo. io credo che abbia più obiettivi in piedi proprio a livello lavorativo e che stia in qualche modo cercando di portare avanti tutti questi obiettivi. Vi dirò che essendo in una situazione un po' così a livello emotivo potrebbe anche essere che questa persona in questo momento si stia buttando sul lavoro, ok. Devo dire che per adesso non ho ancora riferimenti all'età, quindi vi saprò dire poi dopo, però ho come la sensazione che sia una persona veramente di animo gentile, dal cuore nobile, che ha sviluppato un certo tipo di amor proprio, a cui insomma si può fare affidamento, può essere un amico sincero, è quella persona di tipo fedele, ok, che quando fa una scelta la fa con il cuore fondamentalmente, è una scelta sentita, non pensata. devo dire che in molti casi potrebbe essere una persona diciamo con una certa abbondanza, soprattutto economica e comunque si vede anche da questo 2D pentacoli, perché se è una persona che sta cercando di mantenere in piedi più cose potrebbe anche essere che abbia più lavori, ho come la sensazione per qualcuno che sia come un un capo o qualche cosa di un capo di un'azienda o qualcuno che ha comunque un ruolo di prestigio diciamo così e questo tipo di trasformazione secondo me a livello emotivo potrebbe anche essere che magari esca appunto da una relazione lunga che ha creato questo tipo di sofferenza, ok. Devo dire che è una persona ripeto secondo me è una persona che ha sviluppato un buon livello di amor proprio è una persona che comunque ha un bambino interiore molto risvegliato molto sveglio quindi può essere che sia giocosa che magari può anche essere che faccia un lavoro con i bambini ipotesi o che comunque gli piacciono o le piacciono i bambini e vi devo dire che appunto secondo me c'è una certa abbondanza anche proprio da un punto di vista economico materiale come se la persona avesse raggiunto un certo tipo anche di potere a livello caratteriale no è qualche cosa che la rende stabile di fronte agli altri nei confronti del mondo andiamo a vedere che cos'altro vi dicono vediamo che cos'altro riesco a dirvi di più vediamo un po' abbiamo l'imperatore al contrario il 5 di spade il re di spade e il 3 di pentacoli al contrario allora ragazzi devo dire che con questo imperatore al contrario ho come la sensazione che in questo momento di vita questa persona avendo comunque tutta questa situazione emotiva da dover gestire è come se la persona non fosse poi in una piena stabilità anche per certi versi può essere che ci sia una questione a livello abitativo in ballo per questa persona come se può anche essere che questa trasmutazione questa trasformazione sia proprio un cambio di casa e sia nel processo in questo processo di cambio diciamo allora per quello che riguarda invece diciamo alcuni aspetti del suo carattere insomma della sua vita ecco o come la sensazione che sia una persona a cui non piacciono molto le regole o come l'idea che sia una persona individualista e che abbia un suo modo di fare le cose che sia una persona molto indipendente e che quindi il doversi attenere a certe regole insomma non anzi vi dirò che sento proprio che questa cosa ha che vedere con il suo lavoro come se il rompere le regole o il creare regole nuove o il trovare il punto debole all'interno di alcune regole potrebbe essere il suo lavoro che può essere non lo so per esempio un avvocato che magari va a trovare quel cavillo che non si era visto per esempio oppure non lo so potrebbe essere qualcuno che ha a che fare con i conti anche revisori contabili o commercialisti o cose di questo genere o come questo tipo di sensazione è un po' come se fossero tendenti a portare giustizia cioè il loro tipo di intervento è per una maggiore giustizia diciamo così ho come la sensazione che però appunto che lavorino da soli che siano come freelance o che abbiano magari una ditta per conto loro ripeto anche più di una potrebbe essere due ditte o magari un lavoro improprio uno da dipendente comunque sono persone molto impegnate da un punto di vista pratico che pensano proprio alla loro espansione da un punto di vista concreto può essere che sia perché appunto a livello emotivo c'è da diciamo così tappare un pochettino questo vuoto e questa sofferenza e quindi è come se in questa fase della loro vita si fossero buttati un pochettino troppo in quello che è il il lavoro allora per quello che riguarda il posto dove potresti conoscere questa persona o come la sensazione che potrebbe essere in qualche zona in qualche situazione all'aperto può essere una zona di culto o di ritrovo di culto sia religioso ma anche magari culturale come per esempio non lo so la presentazione di un libro piuttosto che una mostra una fiera o come questo tipo di sensazione può essere anche un parco un bosco so che incontrano una persona in un bosco può essere strano ma ogni tanto ci sono quelle gite diciamo così nei boschi proprio come corsi organizzati magari quelli per andare a riconoscere le erbe e c'è una stagionalità per fare queste cose ci sono delle erbe che si trovano solo in inverno e quindi ci sono dei percorsi che si fanno solo in inverno quindi ho anche come questo tipo di sensazione e poi sulla pista di pattinaggio può essere che adesso andiate a fare non lo so qualche pomeriggio in montagna piuttosto che in qualche pista di pattinaggio al chiuso anche quello potrebbe essere un posto potenziale dove potreste incontrare questa persona può anche essere che abbia dei figli che cosa non vi ho detto l'aspetto fisico allora ragazzi l'aspetto fisico direi che potrebbe essere una persona normale non troppo non troppo gracile ma neanche troppo diciamo strutturato come come portamento fisico diciamo che una persona si cura di sé questo a livello caratteriale si si vede potrebbe essere biondo o rosso di capelli e avere o una cicatrice particolare sulla spalla o qualcosa del genere vero come un segno andiamo a vedere con gli angeli del cuore che cosa vi dicono bambini e appunto la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini non poteva non poteva esserci carta migliore rispetto a quello che vi ho detto si può essere anche che se entrambi avete figli ipotesi che vi possiate incontrare in un luogo di divertimento di gioco che è per i bambini no o comunque c'è qualche sorta di attività appunto legata ai bambini magari a scuola magari qualche attività extrascolastica se non è un'attività della domenica un luogo di feste diciamo così però è una persona che ha a che fare comunque con quello che è la sfera dei bambini o può essere che può essere anche in questo caso che i bambini o meglio io certe volte questa carta la sento anche come se l'idea che vi siete fatti da bambini potrebbe anche influenzare l'idea che avete adesso della vita amorosa quindi in questo caso può anche essere una persona che magari si veda il mondo dei bambini l'avere dei bambini o il come crescere i bambini in un modo un po' particolare quindi vi potreste accorgere che è la persona di cui vi sto parlando perché ha delle idee un po' particolari su quello che è l'educazione dei figli piuttosto che particolare non intendo strana particolare intendo diversa dalla norma ok non necessariamente deve essere strana con una connotazione negativa ecco questo così per capirci va bene ancora una carta da parte delle fatine vediamo wow ok sono letteralmente saltate via abbiamo speranza e purezza wow è interessante questa fatina perché è vicino al telefono e gli sta facendo come un un incantesimo perché suoni quindi abbiate fede che questa persona questa notizia questo incontro prima o poi ci sarà e poi purezza ecco questa carta vi ricordo un po' di rimanere sempre puri nello spirito nell'animo e anche nelle intenzioni ok amici del mazzo giallo questo è quello che avevo per voi fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao